smeraldo oggetto questo maschio nato il 3 aprile dal campione di produzione credit winner mentre la mamma e la gradisqua jet che nasce da park avenue joe e jennifer 2 ancora una volta la linea materna è da apprezzare poiché la jennifer 2 nasce da super bowl mentre l'arnet nasce da ernie almaust grazie a tutti